buongiorno oggi all'inizio di un fantastico anno la giornata è fantastica sta piovendo certo ma ti da nuove sensazioni percepisci il mondo i rumori i suoni gli odori in una dimensione diversa se noi non vediamo la natura come ostile sentiremo la nostra pioggia sulla nostra testa come una fantastica doccia rinfrescante ma se la natura invece è lì come una barriera un ostacolo per noi lo sentiremo come una doccia di aghi gelati aghi e non faremo altro che correre verso il riparo essere qui fuori fa ritrovare noi stessi ci permette di scoprire cose che non avremmo in nessun altro modo visto vi auguro un anno pieno di fantastiche esperienze in mezzo alla natura e vi auguro un anno positivo per ritrovare voi stessi buona giornata e buona avventura a tutti vi abbraccio ciao